Mi ha chiamato Salvo la Rosa e mi ha chiamato Possiamo chiamare meraviglioso? Certo Perché meraviglioso è un aggettivo che desta meraviglia e si muore Però la verità è che il tuo nome e cognome Entra in tutte le canzoni più belle del mondo Almeno le mie Le sei convinto? Salvo la Rosa Potevi chiamare la televisione Salvo la Rosa Sarebbe scopo Oppure Salvo la Rosa e già mi piace E' andata Tanti auguri per questa trasmissione Giuliano San Giorgio Mio fratello